214 milioni di euro. E' questo il totale patrimoniale che la Guardia di Finanza e la DIA di Reggio Calabria questa mattina hanno sequestrato a due noti imprenditori reggini sospettati di essere contigui ad esponenti della mala vita legati alle cosche Tegano e Condello di Reggio Calabria, Alvaro di Sinopoli, Barbaro di Platì e Libri di Cannavò. Secondo gli investigatori esisteva una palese sproporzione tra i beni individuati e quanto dichiarato dai due imprenditori, al punto da non giustificarne la legittima provenienza, appunto. I beni confiscati si trovano tutti tra la Calabria e la Lombardia e costano di 220 immobili tra appartamenti, ville e terreni, 9 società e 22 rapporti finanziari.